Sì, sicuramente non era semplice perché comunque di là l'ultima partita ha toccato poche palle. Qua è un po' diverso, mi piace molto giocare qua a Roma, soprattutto in Italia. C'è tantissimo pubblico e alla fine questa è la cosa più bella. Quindi posso essere contento, posso fare delle cose meglio. Sì, sicuramente i punti importanti oggi alla fine li ho giocate con la maniera giusta. Quindi vediamo nel prossimo incontro. Siamo gli unici due ancora dentro dei italiani. Sarà una partita molto molto difficile. Anche lui gioca meglio quando è qua a Roma. Io ovviamente proverò a fare il mio meglio come lo proverà a fare anche lui. Ho tanto rispetto per lui perché mi ha aiutato veramente tanto anche in Coppa Davis. Come prima ancora non lo conoscevo benissimo, lì mi ha dato una mano importante perché per me era la prima volta che ho giocato Coppa Davis. Quindi siamo amici, però in campo proviamo a... purtroppo ci tocca.